Via, via, scappiamo! Presto, di qua! È entrata in coma in seguito a un trauma cranico. Intrappolata nel proprio cervello. E l'assicurazione non lo coprirà. Il Jefferson Institute è una delle due strutture del nostro territorio specializzate nella cura dei pazienti che si trovano di fatto in stato vegetativo. Ospita questi pazienti a un costo ridotto rispetto a quello di un ospedale convenzionale. Al Jefferson non ci hanno fatto entrare. Così ci siamo intrufolati. Stanza dopo stanza. Vuote. Che razza di ospedale è senza malati? Non possiamo spiegare cosa abbiamo trovato. Poi sono arrivate le guardie. Via! In fondo al corridoio! Via, via, via! Presto, di qua! angezza! Perona ogni paola! Ho Manuco! Grazie! Ho Cam ahi! Ho Cam'è! Ho Manuco! Ho Manuco! Grazie a tutti